ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti il circuito che andremo a leggere oggi è il circuito di donington park questa è la mappa del circuito un attimo che avrà zoom un po troppo aspetta ok ok leggibile allora il circuito di donington park è un autodromo inglese ubicato a cassa donington nelle midlands orientali nel paese della foresta di sherwood ha ospitato il gran premio d'europa di formula 1 nel 1993 vendita edizione del gran premio di gran bretagna del modo mondiale dal 1987 al 2009 e attualmente ospita anche se con alcune pause il gran premio di gran bretagna di superbike questo circuito venne costruito nel 1931 specificatamente per ospitare gare motociclistiche bene chiuso durante la seconda guerra mondiale e venne recuperato solo dopo molti anni da un imprenditore locale tom wetcroft appassionato di sport motoristici che nel 1971 acquistò il terreno dove sorgeva l'impianto wetcroft wetcroft impiegò sei anni prima di poter farvi disputare una gara che si tenne il 27 maggio 1977 e nel frattempo vi trasferì la sua collezione di personali vetture da competizione costruendo un museo destinato ad accogliere quella che ora è conosciuta come donington grand prix expision esibiti scusate che aprite nel 1973 e compiene la più ampia raccolta al mondo di automobili del gran premio dal 1987 e uno dei più conosciuti circuiti inglesi avendo sostituito il circuito di silveston quale serie di grandi premi motociclistici nel 2007 la wetcroft e son ltd di proprietà della famiglia wetcroft cedette il controllo della totoro mediante un oleggio della durata di 150 anni alla società donington ventures laser ltd che nel luglio 2008 annunciò di aver ottenuto i diritti per l'organizzazione del gran premio di blan bretagna di formula 1 dal campionato 2010 e per i successivi 17 anni grazie anche all'approvazione da parte degli amministratori del nord west lanchester shire di un progetto di sviluppo e ristrutturazione firmato da herman tic herman tic che comunque ha fatto vari circuiti comunque e che avrebbe dovuto essere avviato nel gennaio 2009 ma nell'aprile dello stesso anno la wetcroft e son ltd citò in giudizio la donington ventures laser ltd perso il tribunale della contea di derby per mancato adempimento contrattuale chiedendo anche la risoluzione dello stesso tal sviluppo in miso in serio duplo svolgimento del gran premio di accassi donington con bernie e cleston che richiedeva il rispetto degli standard richiesti per l'organizzazione e portando un accordo estra giudiziaro tra le parti nella turno seguente fonti immediati che riportano anche la dvll non è riuscita a farsi finanziare i 135 milioni di sterline necessarie per completare il trasferimento del gran premio di gran bretagna sul suo circuito a seguito di queste difficoltà degli organizzatori di cast e donington fu firmato a fine 2009 un accordo fra e che stone e l'organizzatore di silverstone che prevedeva di mantenere il gran premio nella sua precedente sede per i successivi 17 anni nel dicembre 2009 la todomo tornò ai vecchi proprietari che nel 2010 fece ristrutturare la pista in alcune parti già di velta riportando alle condizioni precedenti ai lavori di modifiche non portati al termine dalla dvll il circuito ripreso l'attività nel 2011 molte delle gare sin cui disputate a cast e donington si sono svolte sotto la pioggia rendendo ulteriormente difficile il lavoro dei piloti a casa del suo asfalto viscido nel 1993 è stato anche sede di un gran premio di formula 1 il gran premio d'europa una gara memorabile corsa anch'essa in avverse condizioni atmosferiche e che ha visto la vittoria di ayrton senna il circuito di donington e anche quartiere generale della formula e dal 3 al 10 luglio e il 19 agosto 2014 il testo ufficiale di preparazione al primo campionato mondiale il circuito il tracciato scusate la lunghezza del circuito è di 4.020 metri con 7 curve a destra e 5 a sinistra da percorrere in senso orario tale lunghezza fu raggiunta nel 1985 dopo i lavori di ampliamento che portano alla realizzazione del tratto dietro al paddock restare per poter ospitare il moto mondiale in quanto la precedente configurazione di 3.149 metri è ritenuta troppo corta tale configurazione ancora operativa col nome di natural circuit ed a volte impiegata per le gare nazionali il tracciato che si trova all'interno di un anfiteato naturale che favorisce la sua visione agli spettatori e misto veloce con mete che sfiorano i 160 km orari e contiene elementi che mettono alla prova i piloti come i saliscendi e alcune curve veloci che obbligano a frenare a frenate ed accelerazioni brusche dopo i lavori di rimesse in opera del vecchio circuito l'unica variazione rispetto al precedente tracciato si può trovare alle 9 e ora più scorrevoli fogarti e sette e roberts pertanto i tempi sul giro ottenuti a partire da 2011 non sono direttamente confrontabili con quali fino a 2008 oltre altri altri usi del circuito oltre alle gare motociclistiche la gara più importante dell'anno che si corre su questa pista è quella relativa alle auto di vtcc il circuito ospita numerose manifestazioni musicali famose al pubblico per aver ospitato il monsters of rock e download festival manifestazioni musicali in cui hanno suonato gruppi come rammstein metallica iron madden green day sea slipcon slipknot sds e slayer all'interno dell'area si trova un importante musica dedicato alla storia dell'automobilismo che racchiude una delle più grandi raccolte di automobili a corsa del mondo sono le mappe del circuito sono solo queste note ovviamente questi sono altri circuiti che comunque tratteremo poi in altri video va bene questo è tutto va bene se il video vi è piaciuto come sempre mi invita a sciambra e mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao